Buonasera e ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today. Prima convocazione nella nazionale olandese per Gerdi Skouten, dunque buone notizie per il centrocampista Rosso Blu. Intanto in Casa Bologna si parla di rinnovi, ne abbiamo discusso nella prima edizione di Sport Today con Fredi Campione. Skorupski dovrebbe rinnovare fino a 2025, l'accordo ormai è cotto e quindi direi che su quell'aspetto almeno del rinnovo contrattuale non ci sono novità. Poi si vedrà sui portieri cosa si farà, ma Gianni Ailovic in discrezione dicono che si andrà avanti sia con lui che con Bardi. Quindi di fatto il discorso Porta sembra essere abbastanza ancorato sulle vecchie tradizioni. Sul discorso invece del prolungamento di Soriano ed eventualmente di Sansone, su di loro si deve fare un discorso un po' più completo anche dal punto di vista dell'ingaggio che è molto alto. Lo si sa, erano arrivati in un momento dove Bologna doveva salvarsi in grande emergenza. Il ruolo di Sansone è cambiato in questa squadra e sicuramente lui dovrà fare una ripensata anche su questo aspetto. Invece su Soriano si potrebbe anche continuare su queste linee. De Luca è un giocatore della Sampdoria, è andato in prestito al Perugia, ha fatto benino, non ha segnato tanto, ha fatto la sua gaveta in Serie B con anche una stagione importante due anni fa. È un profilo, già l'anno scorso Bologna lo seguiva, ma mezza Serie A in realtà. Poi si gridò al colpo mancato quando poi di fatto la Sampdoria se ne è accapparrata comunque il cartellino. Di fatto adesso è ancora un giocatore a caccia di esperienze per poi fare il suo salto in Serie A completo e totale. È un profilo, è un profilo anche quello di Lammers che comunque ha avuto un'esperienza diversa per tratti difficili, sicuramente a Bergamo in Italia non ha fatto bene. In Germania l'ha entrata, non ha fatto male, ma non ha fatto benissimo, poche presenze per lui. È a caccia anche lui di una conferma dopo aver fatto benissimo in area divise nel campionato olandese. È uno dei nomi che possono essere utili al Bologna, ma soprattutto facili per Sartori da portare a Bologna. Da lui, sinceramente, da Sartori ci aspettiamo tutti qualcosa di più. Questi sono nomi che erano già stati accostati a Bologna. Io credo che Sartori possa avere anche necessità di un po' di tempo per capire meglio che cosa serve a Bologna con tutto che l'ha seguita. anche nella seconda fase del campionato ha seguito attentamente le sorti e il percorso del Bologna, sapendo di essere comunque uno molto papabile in questa piazza e quindi con un po' di tempo in più credo che possa fare un ottimo lavoro. Il basket con la Virtus che questa sera torna in campo, 20.45, gara 1, quindi fra pochissimo in campo contro Tortona, nella gara 1 di semifinali play-off. Ne abbiamo discusso con Roberto Martini. Gara 1, partita molto divertente. Sicuramente molto più di una finale contro Milano che non gioca una bella palla a canestro. perché al di là di tutto, per me che sono un grande appassionato di basket e vedo fiumi di partite, mi ubriaco di basket, devo dire che questa è una partita che io attendo con grande interesse rispetto ad una finale contro Milano. Ramondino ha fatto vedere la pallacanestra in assoluto più bella del campionato, con la sua neopromossa Tortona che torna in Serie A dopo una vita già per la prima volta, ma è già tanti anni, dal 98 se ricordo bene, che nessuna squadra dall'A2 neopromossa arrivava in una semifinale scudetto. Quindi è una partita veramente interessantissima questa di stasera. Su una partita secca, e l'abbiamo vista anche in Coppa Italia, Tortona può battere una Virtus magari affaticata, stanca e spompata dalle Eurolega e dagli infortuni. Poi è una Virtus diversa con Hackett e Sengheglie in più. Quindi a questo punto è chiaro che non ce la può fare. Ce la può fare in una partita in due, magari anche in tre, ma su cinque no. Attenzione, il signor Ramondino stava per fare un mazzo così alla Virtus quando allenava Casale Monferrato. Lui e l'accoppiata Marco Martelli, eccellentissimo manager, produsselo a Casale Monferrato una squadra che batte praticamente la Virtus. E se non ci fosse stato un infortunio di Severini, magari avrebbe anche vinto. E la Virtus rischiò tantissimo di uscire, ma era una 2 e non una 1. Non c'era nella Virtus questa struttura così forte, così ricca, così lunga di giocatori. Insomma, se pensiamo che nella Virtus, l'undicesimo e Magnon, io credo che Tortona vorrebbe averlo in squadra. Quindi su cinque partite non c'è possibilità. Tortona sarà anche un po' stanca, ma se anche fosse freschissima non cambierebbe. Dopo due anni di stop per Covid, torna la Run for Mary, camminata ludico-motoria dedicata al culto di Maria. Sentiamo Don Massimo Vacchetti, direttore dell'ufficio diocesano Sport, Turismo e Tempo Libero. Siamo molto contenti di ripresentare sabato 28 maggio alle ore 9, su strada maggiore angolo Due Torri, la terza edizione della Run for Mary, una corsa nata nel 2018 per onorare la Madonna nei giorni in cui rimane in città. Sono cinque chilometri lungo il centro di Bologna. Di fatto una caratteristica di questa corsa, o camminata che dir si voglia, perché ognuno la potrà vivere come meglio e come meglio può e meglio vuole, è di scoprire anche la città di Bologna, il centro di Bologna, un sabato mattina, quindi senza particolare traffico, godendosi una Bologna splendente. Per arrivare nel cortile dell'Arcivescovado, che è un traguardo di un evento sportivo, dove lì consumeremo una colazione tutti insieme. Il Vescovo non manca a dare il via, l'aveva fatto anche nella prima edizione, penso che sarà molto emozionato per lui, perché torna da Roma, penso, in serata, e domani sarà di fatto la prima volta che riabbraccia la città, ci sarà tanta gente alla partenza, e penso che sarà il modo che i bolognesi potranno esprimere per congratularsi con lui. Quindi la nomina del Vescovo a Presidente della CEI diventa anche in un certo qual modo il riconoscimento di un modello e di una città. Qua abbiamo la maglietta dello staff con uno slogan particolare. Alcuni mesi fa è morto Serafino Donofrio, che era Presidente dell'ICS. Io scrissi un articolo sul Carlino per raccontare il rapporto e l'amicizia che mi legava a Serafino, e gli ho promesso che nel caso in cui avessimo fatto e ripresentato la Ranformeri avrei messo come sottotitolo a Maronata Compagna, che è il saluto con cui lui si congedò da me la prima volta che gli raccontai di questo progetto, a cui lui come Presidente dell'ICS aderì generosamente. È il saluto con cui lui si congedò da me. Io ho preso questo saluto, lo tradussi in dialetto bolognese, la Madonna, la Seppa, Sempertig, ma penso che in dialetto napolitano anche i bolognesi lo capiscono molto bene. E domani prenderà via la seconda edizione del Bologna Montana Evergreen Fest, il Festival dell'Ambiente e della Sostenibilità. Sino al 5 giugno saranno previste iniziative e manifestazioni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e diffondere uno stile di vita virtuoso e sostenibile. Gli eventi coinvolgeranno i territori dei comuni di Bologna, Montana, Loiano, Munghi d'Oro, Monzuno e San Benedetto, Val di Sambro. Andiamo ad ascoltare i loro organizzatori e istituzioni. Daniele Maestrami torna il Montana Green Festival. Di cosa si tratta e come si sviluppa? Quest'anno Viva il Verde organizza la seconda edizione di Bologna Montana Evergreen Festival che si trarrà dal 28 maggio al 5 giugno sui territori di Bologna e Montana, appunto i comuni di Loiano, Munghi d'Oro, Monzuno e San Benedetto. Sono previsti una quarantina di eventi di tutti i tipi, dei meeting, attività sportive, mercato chilometro zero, tutta una serie di attività. Inauguriamo sabato il festival con la staffetta transapeninica che partirà da Piacenza, attraverserà tutto l'Apenino Emiliano e dopo aver corso giorno e notte 330 chilometri arriveremo a Loiano. Questo lo facciamo per celebrare i 50 anni della giornata mondiale dell'ambiente che è il 5 giugno e l'Ono quest'anno per celebrare questo evento ha dato come tema solo la terra. Marco Mastacchi, l'importanza di essere attenti all'ambiente dove viviamo, è giusto sempre sottolinearlo anche con delle giornate proprio dedicate? Assolutamente, questo poi è un bellissimo esempio anche di collaborazione che va dalla tutela dell'ambiente attraverso l'ambiente stesso, iniziative sportive, innestate in attività anche culturali, quindi per un messaggio di cultura in particolare ai cittadini dei territori, ma in modo molto più forte alle scuole. È un bel esempio perché è frutto della collaborazione fra quattro comuni che lavorano all'interno di due unioni diverse e attraverso questo protocollo hanno dato il via a questa collaborazione e si esce anche dal territorio perché partendo da Piacenza percorreranno appunto tutto il crinale dell'Appennino, quindi tutta la zona ovest della regione Emilia-Romagna, quindi è un bel messaggio, le istituzioni che collaborano fra di loro, che si aprono a una collaborazione con i cittadini e le associazioni per promuovere appunto il nostro bel ambiente montanaro. E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona serata. Grazie! Grazie a tutti.